Scusate Gianmarco Tossi E ora Sporting in attesa dell'arrivo degli altri concorrenti Partito scurino, passiamo alla Suzuki Swift di Pietro Benneri della Cosenza Corse, anche lui classe 1600 Scusate Gianmarco Tossi Teodempio Flexibilità Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vado ad allinearsi ora dietro Venneri, mentre vi ricordo che potete seguire i tempi sul sito tempilive.it con il servizio di cronometraggio offerto dalla Cronotec. Arriva al traguardo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.